sto facendo l'insalata di pollo un piatto molto tipico qui in america ho tagliato una cosa di un pezzo di sedano e ho bollito come un chilo di pollo fin quando era cotto e l'ho tagliata pezzettini messo qua dentro adesso si aggiunge sale e pepe ma il maionese ora mischio alcune persone aggiungono anche frutta secca noci a me non mi piace proprio quelle cose allora praticamente solo maionese sedano ecco qui tutto fatto non sembra forse molto bello di presenza però qui in america li fanno con il pane fanno il panino o con i cracker è un piatto non piatto non direi proprio piatto ma si mangia a me mi piace assai provatelo alcune persone fanno anche sempre tipo una cosa così invece del pollo il tonno insalata di tonno fatemi sapere se lo provate ecco mi sia un po più meglio in questo contenitore qui che metterò in frigo comunque spero che vi piace provate molto facile e ovviamente potete mettere più sedano cosa io sono molto più semplice con i miei piatti allora non ho messo tanto sedano e poi potete mettere ufa passa o mirtilli 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 secchi voglio dire uova sode per farlo più più con altre cose ok al prossimo sono 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 Grazie a tutti